Ha riportato ustioni sul 75% del corpo la donna che questa mattina intorno alle 10 si è bruciata con la stufa in un'abitazione in via principale di Frazione Muriaglio a Castellamonte. La donna, 82 anni, stava accendendo la stufa, paro utilizzando l'alcol, quando per un ritorno di fiamma è rimasta ustionata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Castellamonte e Ivrea, la croce rossa di Castellamonte, l'elisoccorso e i carabinieri di Aglie. Dopo un primo soccorso la donna è stata trasportata a Vespia dove l'attendeva l'elisoccorso per portarla all'ospedale CTO. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che l'hanno sentita urlare e l'hanno vista uscire sul balcone avvolta dalle fiamme.